Buongiorno, oggi è il 3 novembre 2022, giovedì, e visti gli sviluppi attuali si rende necessario ovviamente fare questo video che credo sarà uno degli ultimi, forse l'ultimo che farò in merito a queste questioni. Qui vediamo diversi libri, già cominciamo con il presentarli. Abbiamo questo romanzo, Il velo di Maia, scritto da me, è un romanzo di spionaggio, d'avventura, di guerra, su un'inchiesta giornalistica fantasiosa, adesso lo presenteremo, è in realtà uscito nel giugno del 2021, quindi dell'anno scorso. Questi sono alcuni libri appunto di cui vi voglio parlare. Poi abbiamo La quarta rivoluzione industriale di Klaus Schwab, abbiamo poi Robert J. Lifton con i medici nazisti, poi abbiamo Rachel Carson con Primavera silenziosa e abbiamo Il terzo Reich di Arthur Müller-Vandenbrück. Questo libro qui in particolare, molto interessante da cui partiremo, in realtà dopo la presentazione del romanzo, è un libro molto importante perché abbiamo già affrontato questo testo in un altro video molto vecchio che io feci nel 2018, quindi quattro anni fa, che in realtà non riscosse molto successo, se non a partire dalla pandemia, con le restrizioni, il testo, questo video si chiamava, aveva il titolo nazismo, l'origine del male, che non ha avuto grandissimo, diciamo, eco, se non a partire con le restrizioni anti-covid. Da quel momento in poi, cioè dal momento delle restrizioni anti-covid, le visualizzazioni del video sono schizzate e siamo arrivati a 40.000 circa visualizzazioni negli ultimi mesi, dopodiché con l'allentamento delle misure restrittive, quindi col fine dichiarato, tra virgolette, della pandemia, si è tutto acquietato. Quindi secondo me è importante riportare un attimino l'attenzione su questi temi qui. Quindi, un breve discorso su come sarà impostato il video. Il video avrà diversi tagli, ad ogni argomento normalmente farò un taglio, e i temi che sembrano, diciamo, in realtà non collegati fra loro, in realtà invece sono molto connessi, tutti quelli che andremo a toccare durante questo video. Il video sarà corposo, lungo, quindi io ho necessità di farlo, è più un discorso mio personale che l'altro. e credo che ci sia la necessità di dover fare questa cosa, perché sono dei temi sui quali nessuno sta parlando, che nessuno sta affrontando. Quindi iniziamo fondamentalmente con la presentazione del romanzo Il velo di Maia, che ho scritto io, ci sono voluti tantissimi anni per scrivere questo romanzo, che ha avuto fondamentalmente poi, fortunatamente, ha visto la luce solamente nel giugno del 2021, ma in realtà è un testo che io ho scritto da tantissimi anni e per il quale ho impiegato tantissimi anni. Mi sono dovuto documentare moltissimo, benché si tratti di una storia di fantasia, diciamo, il romanzo è ispirato a una serie di letture che io ho fatto nel corso degli anni e una breve, diciamo, biografia, che in realtà non è una breve, scusate, bibliografia, che in realtà non è una bibliografia vera e propria, perché di fatto non è che si tratta di un saggio, è un romanzo, però ci sono dei libri che mi hanno particolarmente ispirato nella stesura e che quindi ho voluto ricordare alla fine del romanzo. Tra l'altro ci sono anche tutta una serie di ricerche che io ho effettuato online, ci sono dei siti, fra tutti Wikipedia, ma ce ne sono altri, a cui ho attinto per alcune informazioni storiche. E questo, il romanzo che cos'è? Di cosa parla? Questo romanzo è una storia di spionaggio che si sviluppa su un arco temporale molto lungo, va dal 1941, quindi fondamentalmente dai primi anni della Seconda Guerra Mondiale, fino, diciamo, a quasi la fine della Guerra del Vietnam, termina agli inizi degli anni 70, quindi la Guerra del Vietnam finirà poi nel 1975 con la presa di Segon, ma il testo in realtà si ferma qualche anno prima. Il discorso è molto semplice. Ci sono delle storie di vari personaggi, le vite di vari personaggi, queste storie si intrecciano in questo, diciamo, arco di tempo e troveranno ovviamente poi un punto d'incontro, un punto d'incontro che sarà in realtà molto violento. È una storia di spie, di spionaggio, di guerra, che fondamentalmente coinvolgerà, si sposterà dal sud-est asiatico, dall'Europa al sud-est asiatico, per poi aggiungere negli Stati Uniti, dove si incontrerà, si scontrerà di fatto, con la vita di un'ambiziosa giornalista che dovrà indagare, inizia ad indagare su quella che crede essere una storia fondamentalmente di omicidio, suicidio, e poi si troverà coinvolta a suo malgrado in qualcosa di molto più grande, che è in realtà una storia di spie. Quindi questa giornalista si trova a indagare appunto su questa storia in cui durante questa indagine poi incontrerà, si intreccerà con altri personaggi, in particolare con una spia inglese, quindi c'è tutto un filone del coinvolgimento inglese anche nella guerra del Vietnam, e in realtà scopriranno poi, andranno a scoprire, diciamo, il coinvolgimento più diretto di alcune sette esoteriche di stampo, diciamo così, tra virgolette, poi lo scoprirete nel romanzo, non voglio svelarvi troppo, filonaziste, ma di fatto c'è questo aspetto poi dell'esoterismo che prende piede in quegli anni, e in questo mi sono un po' ispirato a quegli aspetti che vedono l'emergere durante proprio gli anni 60, gli anni 70, del satanismo sotto molteplici aspetti che io poi non tratto in realtà, in maniera specifica nel romanzo, però è importante sapere che in quegli anni, negli Stati Uniti, insomma emerge in maniera importante l'aspetto del satanismo con le diverse sfaccettature che poi qui bisognerebbe andare a fare un discorso più specifico, però c'è il satanismo acido, il satanismo, diciamo, occultista, diciamo, spiritualista, se lo vogliamo chiamare così, e poi abbiamo invece un satanismo razionalista. In realtà questi sono molto diversi fra loro, hanno degli scopi, delle concezioni totalmente diverse fra loro, però l'aspetto singolare è che emerge in quegli anni proprio questa forma di filosofia, di credo religioso in qualche modo, in antitesi appunto alla dottrina cristiana. Ecco, questi aspetti si fondano all'interno di questo gioco di spie e i personaggi interagiscono fra loro. Il tema che è fondamentale nel romanzo è appunto questa interazione dei diversi personaggi che porta ad alcune forme di violenza. Il tema centrale del romanzo è sempre la violenza, viene messa in luce ovviamente la violenza più cruenta, la violenza più evidente, quella che si manifesta di più con la guerra, quindi è una violenza fisica. Io all'interno cerco di descrivere il più possibile in maniera abbastanza anche pesante alcuni aspetti delle torture, delle vessazioni, di quello che può portare la guerra, alcuni tipi di violenza anche fisica a cui possono portare alcune ideologie. ecco, la cosa importante anche di questa setta esoterica che si muove all'interno del libro è quella violenza che si innalza proprio a livello estremo quando diventa rituale. Cioè lì addirittura viene consacrata proprio la violenza, cioè un aspetto proprio rituale in cui la violenza è l'elemento principe appunto del culto, del rituale religioso. quindi c'è tutto questo aspetto della violenza. Però c'è anche un aspetto un pochettino, diciamo, autobiografico su altri aspetti della violenza, cioè sugli aspetti, diciamo, quelli che diciamo a fin di bene o quegli aspetti, quella violenza psicologica che anche chi l'esercita non si rende conto di esercitare perché è convinto di farla a fin di bene. Ecco, in modo particolare la giornalista che si trova a subire, diciamo, questo tipo di violenza perché quando lei si accorge che questa storia in realtà vede coinvolti tutti, vede coinvolti la mafia, vede coinvolta la politica, vede coinvolto alcune sette esoteriche, vede coinvolti i militari, quindi le istituzioni statali più elevati che sono ovviamente preposti alla protezione del cittadino, in realtà sono proprio quelli in alcuni casi carnefici, ecco, questa giornalista dai suoi colleghi, dai suoi amici viene invitata a lasciar perdere questa storia e gli si fanno pressioni continue, la scusa è sempre quella di proteggerla, ma in realtà quello che si sta facendo è quello di dire a questa giornalista lascia perdere, non fare questo, fai quest'altro, è quello un po' che succede a noi nella società quando le persone ci dicono ma che ti metti a fare questa cosa, i cosiddetti bene altristi, cioè bisogna che tu faccia ben altro, occupati di altro, fai altro nella vita, dedicati a quest'altra cosa, lascia perdere, sai a me capita molto spesso, sono amante della montagna come un po' degli sport da combattimento, mi piacciono molto le arti marziali, benché io non sia un atleta marziale, però mi piace molto cimentarmi in queste cose e mi viene spesso sempre detto a livello di protezione ovviamente, con l'intento di proteggermi, di ma che vai a fare in montagna, è pericoloso, non ci devi andare, cioè gli altri che tendono a tirarti fuori da quella che tu senti essere la tua vita, cioè tu fai quella cosa, benché pericolosa in alcuni casi, perché ti fa stare bene, e gli altri invece che cercano di proteggerti, ma in realtà stanno limitando le tue espressioni. Ecco, nel romanzo, c'è, oltre alla giornalista che subisce queste cose, c'è un altro aspetto sul quale in realtà ho riflettuto più tardi, che è anche qui un carattere, se vogliamo, ha un pochettino autobiografico, c'è questo personaggio che io ho delineato forse in maniera quasi inconscia, che è Johnny McKillor, questo è un pugile che poi verrà ruolato nell'esercito e prenderà parte da alcune operazioni militari in Vietnam, questo ovviamente nella storia del romanzo, però ecco, l'aspetto, diciamo, un po' diciamo, se vogliamo, autobiografico, sta nel fatto che, come dicevo, io sono sempre stato un amante delle arti marziali, degli sport da combattimento in generale, però da bambino, fondamentalmente, io ho iniziato, credo un po' come tutti, con il calcio, perché sono stato iscritto a questa scuola calcio, perché, in tenerissima età peraltro, perché le arti marziali, mia madre, cioè, erano degli sport violenti, eh, ma lì ti fai male, è uno sport violento, perché non fai quello che fanno tutti gli altri, e alla fine sono stato iscritto, diciamo, alla scuola calcio. Quando sono diventato un po' più grande, quindi io sono degli anni 80, quindi negli anni 90, quando già avevo 13, 14 anni, quindi in realtà molto tardi, eh, sono riuscito a convincere i miei genitori a iscrivermi a un corso, eh, di karate, e lì è già stato un primo step, eh, dopodiché, dopo qualche anno, ho deciso di passare al full contact, e lì, già, mh, mia madre dice, no, ma che sono tutte queste pretezioni, il caschetto, il paradenti, eh, il paratibie, eh, i calzali, eh, i guantoni, no, ma qui tutte queste protezioni, vuol dire che questo è uno sport violento, che se rientriamo un po' nel concetto della montagna, è un po' il discorso di dire, ma tu vai con tutte quelle attrezzature, con l'imbragatura, con il kit anticaduta, di dissipazione per le vie ferrate, e quant'altro, quindi vai a fare una cosa, eh, pericolosa, perché se hai necessità di avere tutte queste cose, e non ci si rende conto che in realtà, sono proprio quelle cose, che eliminano, o quantomeno limitano tantissimo il pericolo, no, perché sarebbe molto più pericoloso in realtà, se io non avessi quel kit anticaduta, se io non avessi l'imbragatura, però il fatto che io necessiti, di queste attrezzature, dà l'impressione, che quella sia una cosa pericolosa, è un po' se, andare in macchina, fosse pericoloso, perché ci mettiamo la cintura di sicurezza, no, la macchina la guidiamo noi, la cintura di sicurezza, è una sicurezza in più, peraltro, obbligatoria, così come i kit da ferrata, credo che lo siano, sulle vie ferrate in montagna, e, servono proprio per proteggerci, così anche le protezioni dello sport da combattimento, diciamo fondamentalmente, sono delle protezioni proprio per evitare che qualcuno si faccia male, soprattutto, ecco, durante gli allenamenti, ma cosa c'entra questo con il romanzo, questo aspetto autobiografico? C'entra tantissimo, perché tutta la violenza che noi stiamo vedendo in questi giorni, in realtà, ci dovrebbe far riflettere su cos'è in realtà la violenza, perché la violenza, ragazzi, non c'è sul ring, cioè sul ring si incontrano delle persone che hanno deciso liberamente di svolgere un'attività competitiva, che ovviamente comprende, ovviamente, una parte di violenza, ma è una parte di violenza che si è scelta entrambi e alla quale ci si è preparati tantissimo entrambi, molta preparazione che viene fatta negli sport da combattimento, viene fatta non solo per colpire l'avversario, ma soprattutto per evitare i colpi dell'avversario e ovviamente quando questi arrivano nell'incassarli, cioè nel riceverli nel modo giusto, cioè nel subire il danno minore possibile. Quindi le persone che si incontrano su questo ring lo decidono liberamente e sono preparati tanto a portare i colpi, tanto nell'evitare di riceverli e nel caso ad incassarli. Adesso questo aspetto è particolarmente importante in un personaggio che dicevo che sta in questo libro, che ci ho riflettuto dopo su questa cosa, ecco perché vi dico che mi è venuta quasi inconscia, perché questo pugile, Johnny McKillor, in realtà io non parlo praticamente mai, se non in una rara occasione, dei suoi incontri sul ring, perché quello che io voglio mettere in evidenza è il fatto che, adesso non vi voglio svelare troppo del romanzo, però è il fatto che questo pugile, tutta la violenza che subisce, non la subisce sul ring, lui la subisce fuori, la subisce da una società dominata, flagellata dal cancro della mafia e la subisce poi dallo Stato che lo utilizza per fare da una parte dello Stato, cioè da quelli che vengono così comunemente chiamati i servizi segreti dei viati, come ci piace tanto dire in Italia, che lo usa per fare delle cose molto discutibili. Quindi tutta la violenza che lui subisce, perché io ho voluto inserire la figura di questo pugio? in parte per la prestanza atletica ovviamente, perché in quegli anni diciamo gli Stati Uniti avevano bisogno di atleti che si arruolassero, ma per sottolineare probabilmente, inconsciamente, proprio l'aspetto che non sono gli sport da combattimento, il pugilato, il karate, il full contact, le MMA che oggi ovviamente hanno tantissima risonanza, ad essere espressione della violenza. In realtà noi subiamo tutti i giorni intorno a noi della violenza di cui non ci accorgiamo nemmeno, che è una violenza pensata un po' spesso portata proprio dall'educazione. E qui entra in gioco un altro personaggio del romanzo, che è Douglas Baxter, anche lui si arruola, ma lui è del Montana e lui si arruola perché lui arriva da una famiglia che è fortemente interventista, patriottica, che quindi deve partecipare a tutte le guerre e lui vuole partecipare come il nonno e il padre avevano partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, alla Guerra di Corea, anche lui vuole partecipare ad una sua guerra. Quindi, quando lo Stato gli offre la possibilità di partecipare attivamente alla Guerra del Vietnam, ecco che lui ovviamente si getta a braccia aperte in questa avventura, benché, e qui non vi voglio svelare troppo del romanzo, ci siano poi delle sfaccettature che ci fanno capire che lui in qualche modo, oltre ad aver subito un lavaggio del cervello dalla propria società, dalla propria cultura, dalla famiglia, che in qualche modo lo cresce con questi valori, perché lui diventa convinto che deve intervenire, che deve combattere, poi in realtà c'è un altro aspetto che probabilmente è un po' quasi una metafora, no? Vuole essere forse un'esagerazione, no? per sottolineare questo aspetto e questi poi sono aspetti che scoprirete nel romanzo. Comunque, quello che volevo dirvi è che attraverso questa storia di spie, di spionaggio, che è molto avvincente in realtà perché ci sono continui colpi di scena, in realtà si inserisce un aspetto che è quello fondamentalmente del senso di appartenenza, ma questo senso di appartenenza e di protezione che si ha all'interno del gruppo, ci arriva attraverso l'educazione, un'educazione che può passare anche attraverso un punto di vista spirituale e qui entra in gioco l'aspetto della setta esoterica che avrà un ruolo fondamentale nel romanzo. Però ecco, è interessante quello che volevo dirvi sono questi aspetti sull'educazione e sulla protezione, quanto volte ci viene detto ma lo si fa a fin di bene in realtà poi a fin di bene e qui adesso cambiamo un attimino l'argomento faccio una breve pausa perché andiamo a introdurre tutta una serie di aspetti che vogliono farci digerire oggi con una nuova forma educativa che è quella del domani che verrà e al quale dobbiamo adeguarci questa parola che è molto spesso risonante nella nostra società attuale è resilienza una resilienza che significa di fatto adattarsi ai cambiamenti questi cambiamenti sono ineluttabili e noi non dobbiamo far altro che adeguarci quindi per questo voglio introdurre un aspetto importante perché noi forse oggi stiamo subendo una sorta di condizionamento sociale perché ci sono alcune persone alcuni gruppi di potere che vogliono portare la società in una certa direzione e questa direzione non è libera cioè non è stata scelta liberamente non si tratta di un evento naturale al quale noi dobbiamo necessariamente che dobbiamo necessariamente accettare no questo fa parte di un progetto di una volontà ben precisa di alcuni gruppi di potere e qui andiamo a introdurre l'altro l'altro testo quindi facciamo un breve stacco allora eccoci qua siamo tornati dopo questo breve pausa il prossimo libro che vi voglio introdurre è questo la quarta rivoluzione industriale di Klaus Schwab per parlare però prima di questo testo che io ritengo in realtà un testo ambiguo a tratti anche molto pericoloso e dobbiamo introdurre o meglio reintrodurre questo libro qui che è il terzo Reich di Arthur Müller Vandenbruch perché dobbiamo introdurre questo libro perché alla fine di questo testo che io ho già di cui ho già abbondantemente parlato in un altro in un altro video alla fine si evince tutta la pazzia dell'autore perché lui parla di un'esaltazione della Germania del culto del tedesco in qualche modo come popolazione che deve portare dei valori e la grande missione che lui insomma auspica per il popolo tedesco è proprio quella di portare questi valori ad altre popolazioni e lui dice scrive testualmente alla fine del testo dice in questo mondo che va in rovina il nazionalismo cerca di salvare il tedesco cerca di tenere in piedi i valori che non fu possibile abbattere in quanto in sé invincibili il nazionalismo cerca inoltre di assicurare la durata di questi valori e combatte per restituire loro il giusto rango esso combatte per un valore che non potrà più essere messo in discussione un reich tedesco di portata europea poi qui fa tutta in realtà un discorso folle in cui dice noi non pensiamo all'europa di oggi che è troppo spreggevole per poter essere valutata pensiamo all'europa di ieri e a quella che forse un giorno potrà nascere e pensiamo alla Germania di tutti i tempi alla Germania di duemila anni fa ed alla Germania di un eterno presente che vive nello spirito ma nella realtà vuole essere sicura e che può essere resa sicura solo attraverso la politica l'animale striscia nell'uomo l'Africa si oscura in Europa noi dobbiamo essere i guardiani presso la soglia dei valori l'ultima parte è completamente delirante però quello che si evince fondamentalmente è che quello che si vuole improntare con questo terzo Reich quello che lui dice in realtà forse guarda già un quarto Reich perché lui non immagina che il terzo arriverà da lì a brevissimo lui scrive questo libro nel 1923 dopo due anni si suiciderà evidentemente non stava bene ma la cosa interessante è che c'è questo sentimento di un Reich che deve sopravvivere come un modello di valori da estendere ad altri ad altre nazioni ed io in questo dei valori che peraltro non possono più essere messi in discussioni io adesso non vorrei annoiarvi troppo su questo aspetto qui ma io già nel 2009 in realtà poi lo riportai questo testo che si chiama il problema talebano afgano ed i crociati del ventunesimo secolo lo riportai su un articolo che pubblicai nel 2015 sul mio blog The Italian Nature Blog il link dell'articolo e tutto ve lo metto nelle descrizioni così potete andarli a vedere non mi va di annoiarvi leggendolo anche perché è piuttosto lungo ma io dicevo queste cose già nel 2015 lo posso certificare perché c'è la data del blog in realtà il testo come scrivo poi nell'introduzione io l'ho scritto già nel 2009 però la cosa importante è che ci sono dei nuovi valori che vengono portati alla ribalta cioè le guerre oggi si fanno perché ci sono dei valori che noi riteniamo sacrosanti e che non devono mai essere messi in discussione una volta questo valore perché lo chiamo il problema talebano afgano ed i crociati del ventunesimo secolo perché questi valori un tempo erano i valori della croce quindi noi con l'icona della croce credevamo di dover andare in terra santa perché lì dovevamo portare l'icona del Cristo come emblema di liberazione spirituale e quant'altro e gli infedeli erano ovviamente i musulmani oggi il problema si è un po' rovesciato cioè sono i musulmani o meglio le frange estremiste dell'Islam che ci dicono di essere blasfemi di essere ovviamente gli infedeli quindi quell'appellativo dispregiativo quell'aggettivo dispregiativo che noi attribuiamo all'Islam oggi l'Islam più estremista lo attribuisce a noi e noi che cosa usiamo per contrastare per andare per essere sempre quelli che portano i valori ma noi usiamo oggi un altro valore che è quello della democrazia o meglio lo usavamo fino a poco tempo fa e oggi in nome della democrazia noi facciamo delle guerre perché crediamo che come nel 1100 quindi all'inizio alla fine del XII secolo noi dovevamo portare ovviamente il Cristo la fede nelle aree infedeli oggi noi crediamo di dover esportare portare la democrazia nelle aree che non ce l'hanno dico questo perché dopo dieci anni di guerra in Afghanistan dove io spiego un po' in quest'articolo che avevo scritto che loro avevano già negli anni settanta trovato una forma democratica molto liberale peraltro il loro problema era che erano aiutati in questo cioè in un'alta scolarizzazione alfabetizzazione della società nel vietare o meglio non nel vietare ma quantomeno nel rendere la libertà le donne se indossare o meno il velo il burka cioè una emancipazione nel relegare ai margini della società i talebani quindi quasi sconfitti totalmente negli anni settanta dal partito democratico popolare dell'Afghanistan ovviamente questo aspetto di modernità era aiutato anche nell'atto pratico con le infrastrutture dal sistema sovietico quindi dall'unione sovietica questo gli americani non potevano permetterlo così tramite la CIA andarono a fare quello che tutti noi sappiamo cioè ad aiutare queste frange estremiste che conosciamo con il nome di Mujahedin i guerrieri sagri a combattere l'unione sovietica se non che si sono poi trovati loro stessi a combattere il figlio di questi estremismi che fu al-Qaeda con Bin Laden e tutto quello che sappiamo e impantanarsi per dieci anni fondamentalmente in una guerra che non ha portato ad alcun risultato perché l'Afghanistan oggi è quello che è quindi nuovamente in mano ai talebani e via discorrendo quindi se le nazioni si facessero un attimino gli affari propri la storia dell'Afghanistan degli anni settanta ci dimostra che le nazioni sono in grado di trovare la propria democrazia la propria strada senza che nessuno applichi un po' ecco la bandiera su queste su queste rivolte su queste su questi cambiamenti sociali se vogliamo che le società compiono tutte più o meno nell'arco di diversi anni tra l'altro questo è anche un po' un torto che si fa alle popolazioni locali no? perché è come dire lo vedi tu da solo non sei in grado di raggiungere una democrazia matura di raggiungere un livello più elevato del vivere sociale e hai bisogno di me che te lo porto perché tu senza di me non sei capace e invece non è così sono capacissimi se noi li lasciassimo fare però cosa che noi non facciamo quindi è volersi poi appropriare di una battaglia per prendersi i meriti di un qualcosa che sarebbe avvenuto comunque e spontaneamente quindi ecco lo trovo anche una forma ritorniamo al discorso un po' del romanzo no? ecco della giornalista che dice lascia stare questa storia occupata di altro ci penso io a te e via dicendo questa sorta di protezione ecco se noi allarghiamo ecco questa visione questa protezione agli altri stati a livello internazionale vediamo che è un po' una forma di violenza no? perché vieta lì impedisce di fatto a questi stati di autodeterminarsi cioè di trovare una propria via di concepire una propria vita dell'essere umano a livello diciamo prendendo in considerazione tutti gli aspetti della società di quel paese e invece no ci deve essere un intervento dall'esterno di protezione che controlla e fa quello che vuole lui di fatto e si vieta poi si impedisce di fatto a quello stato di avere una vita propria e questo è molto grave perché noi viviamo in un momento di transizione molto particolare molto pecuriale ci sono un po' di rumori scusate motorini e cose varie molto peculiare perché anche la democrazia sta per essere sorpassata attualmente ci stiamo dirigendo verso una nuova forma di governo che è più che altro tecnocratica e dico questo per quale motivo perché se gli stati vengono limitati nelle loro espressioni politiche anche quando queste sono violente e cruente per carità nessuno vuole la guerra però spesso la storia ci insegna che le nuove vie si trovano purtroppo a volte molto spesso attraverso un percorso violento in realtà però noi conosciamo la democrazia che non è uguale ovviamente a quella teniese e qui faccio un appunto importante perché l'abbiamo scoperta sulle nostre spalle cioè noi viviamo in un mondo in cui si pensava in origine che esistesse una sola forma di governo che era quella dell'imperatore l'imperatore è l'incarnazione in qualche modo della divinità entro certi in certi ambienti è stato poi divinizzato quasi divinizzato come se fosse un qualcosa che insomma il suo potere scendesse dall'alto e non poteva più essere messo in discussione e poi piano piano abbiamo visto le monarchie che dovevano ovviamente confrontarsi con le varie parti sociali abbiamo visto un po' in Francia la nascita degli stati generali quando il re deve convocare tutti quelli che sono i rappresentanti delle diverse componenti della società il clero la borghesia la nobiltà deve confrontarsi c'è una sorta di sì c'è una monarchia ma è sicuramente una monarchia più collegiale più più discussa più di dialogo anche con le componenti del popolo e noi l'abbiamo scoperta ma non immaginavamo che potesse esistere cioè quando viene firmata la magna carta nel 1215 in Inghilterra vediamo la nascita di una nuova forma di governo che sta prendendo piede che prima era inimmaginabile quindi noi oggi pensiamo che la democrazia sia la forma più compiuta migliore magari scopriremo domani che ci sono altre forme di governo ma come possiamo farlo questo come possiamo scoprirlo lo possiamo scoprire solo se accettiamo la diversità cioè la capacità di altri stati di autodeterminarsi di scegliere la propria forma di governo che ritengono più opportuna e da questa diversità noi potremmo scoprire nuove forme di fare politica nuove forme di autogovernarsi delle entità statali delle comunità anche locali che magari non avevamo immaginato e invece dobbiamo sempre bloccare questo bloccare quell'altro perché perché a noi non va bene perché noi dobbiamo fare altro e tutto questo discorso per introdurre appunto la quarta rivoluzione industriale di Klaus Schwab che ci vuole portare in un mondo tecnocratico di fatto un mondo pericolosissimo io non starò qui a leggerlo a fare altre vi invito ad acquistarlo a leggerlo io su questo ho scritto quattro articoli nel mio blog che vi invito ad andare a leggere ve li metto nella descrizione vi dico solamente una cosa lui accetta la distruzione sociale che avverrà vi faccio una estrema sintesi lui ci dice che il cambiamento in atto grazie alle nuove tecnologie porterà tantissima disoccupazione ma questa cosa è inevitabile cioè il compito degli stati è cercare di un po' di tamponare questa situazione ma avverrà perché il cambiamento è ineluttabile lui dice che il cambiamento sarà la nuova rivoluzione che porterà la grande crescita economica e lui non si rende conto che dietro questi posti di lavoro che verranno persi ci sono delle persone masse intere di popolazioni che sprofonderanno nella povertà e lui dice sì questo è un pericolo certo ma purtroppo questa strada qui è inevitabile lui dice delle cose adesso vi leggo se mi ricordo solo qualche punto è una società sostanzialmente totalmente tecnocratica dove si controlla ogni aspetto della della vita umana tra l'altro è completamente svuotata votata dalle democratiche decisioni politiche ed infatti lui dice a pagina 95 dice una cosa che per me di una gravità inaudita allora eccolo lui ci dice nella società contemporanea le asimmetrie in termini di informazioni possono dare luogo a sbilanciamenti notevoli in termini di potere chissà come utilizzare la tecnologia ha anche il potere di farlo quindi attenzione a mantenere queste diciamo tecnologie in poche mani di conseguenza un'entità con un accesso rutta al sistema vale a dire privo di qualsiasi restrizione è quasi onnipotente quindi noi viviamo in una società dove fondamentalmente il potere delle big tech cioè delle grandi multinazionali tecnologiche è smisurato e questa cosa la disse in un video anche diciamo giovanotti diciamo questo video che circola online che credo metterò nel video probabilmente proprio in questo punto ora oggi c'è il tema di istituzioni private finanziarie c'è tanta gente ricca guarda io mi è successa una cosa l'altro anno mi è successa una cosa per rispondere a questa domanda sono stato invitato ad un summit privato molto molto esclusivo organizzato da una delle più grandi aziende del mondo in questo summit un'azienda di internet c'erano quelli che secondo loro erano gli 80 persone più importanti del pianeta per quanto riguarda il futuro va bene adesso io non posso parlare liberamente di questa cosa qui perché era un si dice off the record ovvero era un incontro a porte chiuse senza nemmeno la connessione internet che voi direte per un'azienda internet però di fatto è stato molto interessante vi domanderete anche tu che centravi fra quelle 80 persone è una domanda intelligente io me la sono fatta per primo questa domanda però il punto è che siccome questa cosa avveniva in Italia loro avevano piacere di avere un personaggio della chiamiamola cultura popolare pop italiana avanzata secondo loro ovvero non che rappresentasse la tradizione ma che rappresentasse un percorso verso qualcosa di futuro questa è una promessa è una premessa la cosa interessante di questo incontro che ha durato quattro giorni è che c'erano premi Nobel c'erano CEO come si dice come si traduce in Italia amministratori delegati di grandissime multinazionali di farmaceutiche tecnologiche ingegneri c'erano addirittura attivisti attivisti per i diritti umani femmini la più importante femministe il più grande skater del mondo Tony Hawk alcuni di voi lo conoscono c'erano surfisti non c'era un politico neanche uno neanche uno c'era il capo della banca mondiale c'era il questa cosa qui non vuol dire che politici perché non c'erano io l'ho domandata questa cosa perché non servono hanno detto loro nel senso che in questo ambito in questo ambito la politica non è importante noi qui si decidono le cose qui le cose si decidono non più a livello politico ma la visione non è più politica questo è drammatico non sto dicendo e poi non è che farò un balletto su questo tavolo per festeggiare questa cosa dirò che però la situazione è questa nel senso che la politica amministra questa situazione ma le scelte non le fa la politica non le fa più la politica una volta le faceva solo la politica poi a un certo punto le ha fatte insieme e poi non le ha fatte più non le ha fatte più perché? perché la politica cerca consenso e cercando consenso sbagli sempre se tu cerchi consenso sbagli sempre se tu vuoi ottenere la benevolenza di qualcuno devi dargli una gratificazione immediata e la gratificazione immediata è quasi sempre un errore perché la politica è visione per me perché in una canzone dico il tecnocrate di turno è quello che ci fotte perché il tecnocrate non ha visione il tecnocrate sistema le cose in quel momento lì ha una visione breve le cose fai conti fai conti in quel momento la politica invece è quella che ha la visione e la visione qual è? avere un obiettivo l'obiettivo è quello di raggiungere questo risultato e come si fa? si fa così questo è il primo passo qui scontentiamo questo qui qui qualcuno si arrabbierà però poi dopo ritornerà perché comunque si renderà conto che abbiamo fatto bene e quest'oggi la politica non è più in grado di farlo perché se la politica si fa in televisione è chiaro che è difficile no? quindi chi la fa? la fanno altri grazie al cielo non è disperato il mio discorso è che grazie al cielo la fanno altri le visioni ce l'hanno altri c'è gente che ha delle visioni ce ne sono un sacco ci sono un sacco di persone che hanno le visioni ci sono gli economisti ci sono i gli amministratori delegati ci sono anche semplicemente gli agricoli e poi ci sono gli artisti e poi ci sono quelli che nel piccolo costruiscono una cosa e quella cosa influenza poi altre persone intorno a sé pensate cosa sta diventando l'agricoltura il biologico nel mondo quanta gente sta svoltando quante aziende stanno nascendo che poi svoltano la propria la propria esistenza io mica dico solamente che bisogna fare delle grandi industrie anzi il futuro è proprio iper frammentato è come nella musica una volta nella musica c'erano i grandi flussi c'era il rock c'era questo c'era questo adesso la musica è diventata se voi andate a un festival rock una volta c'era tutti i cantanti di uno stesso tipo un giorno il giorno dopo tutti quelli di uno tipo andate oggi c'è tutti tutti lo stesso giorno un dj uno con l'acustico uno con la fisarmonica un altro che balla la samba uno che viene l'africano un africano che fa il rock un dj che fa la classica questa cosa qui è la contemporaneità e noi dobbiamo fare i conti con questa cosa qui che ha degli aspetti meravigliosi però non scherziamo cioè io in quei quattro giorni lì ascoltando questa gente parlare mi sono sono uscito entusiasta comunque entusiasta dal fatto che comunque le cose si possono fare gente che veniva dal niente per esempio moltissimi africani l'Africa è un paese è un continente che si sta cambiando tantissimo si sta evolvendo anche economicamente ci sono alcuni dei più grandi architetti del mondo che vengono dall'Africa sembra sembra quasi una battuta e niente quello che era interessante lì chiedersi e l'Italia? che facciamo noi dentro questa roba qua? chi siamo noi? mi domandavo non c'erano molti italiani lì dentro c'era giovanotti c'ero io c'ero io però c'ero io forse anche un po' da imbucato mi comportavo nel senso che sì evidentemente se c'ero un motivo c'era però ecco e la domanda rimane aperta l'Italia e l'Italia l'Italia lì dentro ha uno spazio secondo me ce l'ha ce ne rendiamo conto e lo spazio penso che sia come voi che riuscirete a è come sempre non riuscire a farsi forte delle proprie cioè cercare di capire chi si è e proiettare questo chi si è dentro una società contemporanea non dentro una società come vorremmo che fosse ma dentro la società come è proiettare quello che io vorrei essere ti ringrazio molto ecco adesso siamo tornati e dice che i politici non sono più importanti non decidono più niente e questa cosa è ribadita ancora sempre all'interno di questo di questo testo qua cioè qua lui ci dice praticamente che i politici devono semplicemente prendere atto che c'è un trasferimento del potere decisionale da soggetti pubblici quindi fondamentalmente la politica a soggetti privati quindi questo è quello che è scritto in questo testo io adesso qui mi fermo vi consiglio di acquistarlo e di leggerlo perché secondo me è abbastanza preoccupante se non volete acquistarlo o meglio prima di acquistarlo potete leggere andare a leggere i miei quattro articoli che ho scritto in merito a questo libro sul mio blog vi lascio ovviamente i link nella descrizione e andiamo ad introdurre un altro un altro testo e un altro tema allora siamo tornati eccoci qua un appunto solamente ancora su Klaus Schwab e sulla quarta rivoluzione industriale lui affronta in questo in questo testo anche il problema ovviamente dell'anzianità della popolazione cioè del problema che ci saranno sempre quindi della denatalità e quindi del problema che ci saranno sempre più persone anziane delle quali qualcuno dovrà prendersi cura in merito a questo però voglio farvi ascoltare un attimino questo discorso qui sentite bene cosa dice professor Bernabèi chiudiamo però volevo chiudere con un tema importantissimo cioè ci siamo dimenticati dei nostri vecchi persone che non possono rimanere a casa che hanno tantissime patologie e che con queste RSA rischiano di chiudere non possono rimanere a casa e signori oggi in Italia ci sono 805 mila ultranovantenni di questi quasi 600 mila sono donne ultranovantenni la metà delle quali sono dementi i letti in RSA in Italia sono 315 mila fatevi due conti vista la denatalità queste donne sole e dementi possono solo che aumentare il rischio eutanasia è quello che pavento fortissimo perché è veramente complicato sostenere questi costi e cercare di mantenere queste povere RSA a livello migliore ecco avete ascoltato quello che ha detto questo personaggio lui parla del tema dell'eutanasia in maniera molto libera così si permette di poterlo fare in una televisione pubblica il problema è che l'eutanasia tecnicamente come noi oggi la intendiamo dovrebbe essere una scelta dell'individuo cioè dovrebbe essere una scelta dell'individuo o dei parenti di quell'individuo che magari ha perso le facoltà mentali di porre un fine vita adesso la domanda è quando lui dice si porrà il problema lui lo dice in realtà con preoccupazione attenzione lui non è che vuole che dice che questa cosa è bellissima però lo fa in un certo senso quasi giustificandola dal fatto puramente diciamo organizzativo e infrastrutturale ed economico cioè se noi continuiamo a non fare figli a un certo punto ci troveremo una società di ultra novantenni dementi dei quali nessuno si potrà prendere cura e quindi la soluzione preoccupato lui lo dice crediamogli è quella dell'eutanasia ma perdonatemi forse il signore non ha letto questo testo questo libro qui che in realtà scritto da Robert J. Lifton il libro è i medici nazisti ecco forse il il signore in questione non non si è accorto che questo problema delle vite indegne è stato già affrontato da persone che in nome della scienza stabilirono cosa era giusto e cosa era sbagliato questo testo qui che ci dice di cosa era giusto e cosa era sbagliato ed in nome della scienza sono stati fatti dei crimini orrendi compiuti proprio dai medici che andavano ad ammazzare fondamentalmente gli handicappati durante la Germania nazista gli omosessuali e tutte quelle persone che erano rinchiuse comunque in cliniche o in manicomi e che addirittura venivano si dà se ne dava notizia alla famiglia molto raramente in alcuni casi non gli si dava proprio la notizia gli si diceva che quella persona non poteva essere vista insomma questo è un libro che vi consiglio di leggere perché questo distacco con i pazienti che si è creato anche con il covid queste persone che sono morte da sole perché non potevano ricevere visite da parenti e amici in ospedale morte ci fidiamo dai medici giustamente non possiamo fare altro sono morti così da soli i corpi nei primi mesi della pandemia addirittura sono stati bruciati senza che gli potesse essere data degna sepoltura senza che i familiari potessero darle dargli a questi a questi pazienti purtroppo defunti diciamo un degno saluto ecco ci rimanda un po' a questo libro qui i medici nazisti e come diceva questo personaggio qui quando non riesci purtroppo a curarti di qualcuno c'è il pericolo dell'eutanasia però sapete il tema dell'eutanasia è un tema particolare perché se tu non riesci a prenderti cura di qualcuno e già su questo bisognerebbe aprire un dibattito però ci si aspetta magari che questa persona proprio perché non viene curata a un certo punto muoia cioè muoia perché non ce la fa più non c'ha le cure viene abbandonata a se stessa e muore ma muore diciamo spontaneamente benché perché non ha diciamo ricevuto le cure necessarie però muore spontaneamente ecco la parola che lui usa però è una parola diversa cioè la parola eutanasia significa che tu prendi una persona che è ancora viva e non è che questa muore da sola spontaneamente perché viene abbandonata a se stessa e non riceve più le cure no l'eutanasia prevede che tu la uccida però nel nostro ragionamento sociale che si fa intorno a questo grande tema dell'eutanasia è che la persona l'abbiamo visto con diversi personaggi con diverse persone che hanno invocato proprio l'eutanasia perché per loro la condizione che stavano vivendo giustamente non era degna nessuno può dire nulla su questo perché è la vita umana il corpo è sacro per l'individuo ed è l'unico che può decidere l'individuo stesso hanno deciso di porre fine alla propria esistenza e chiedono che questa cosa venga diciamo regolamentata giustamente però quando si parla di eutanasia perché non hai la capacità di prenderti cura delle persone e lo dici perché non hai la capacità anche finanziaria quindi economica di far fronte a determinate situazioni ecco la domanda è ma queste persone che dovrebbero ricevere questa eutanasia ma sono d'accordo l'abbiamo interpellate e l'abbiamo detto guarda noi ti metteremo in questa clinica però sappi che se un domani dovessero venire meno dai fondi c'è questa possibilità che un giorno noi ti diamo la medicina che tu prendi tutti i giorni però in realtà non è una medicina e tu il giorno dopo non ti svegli ecco quindi sulla deriva che sta prendendo il nostro stato il nostro paese dove piano piano ci fanno digerire queste cose le iniziano a dire sempre magari in maniera molto diluita molto raramente e poi piano piano sempre più frequentemente fin tanto che noi ci abituiamo a questi discorsi come se dovessimo abituarci all'idea che ragazzi a 90 anni lo stato ti ammazza perché è normale non ce la facciamo a curarti di te e quindi ti dobbiamo sopprimere quindi piano piano questa cosa prenderà vita perché non è scritta espressamente qui però è il frutto è il figlio di queste idee che sono scritte nella quarta rivoluzione industriale di Klaus Schwab che è scritto nel 2016 perché in una società completamente tecnocratica dove governa solamente la tecnica e la scienza e qui tocchiamo un tema importante voglio parlare un attimino della cosa che ha detto la Meloni e si perde di vista completamente l'aspetto umano cioè contano i numeri il dato tecnico il dato scientifico e così si fa perché dico voglio toccare un attimino il tasto della Meloni e qui andiamo a parlare di questo libro qui Rachel Carson Primavera Silenziosa la Meloni dice e io sono d'accordo con lei entro certi limiti che le decisioni che sono state prese durante il covid tutte le misure quindi le restrizioni le discriminazioni che sono state fatte nei confronti delle persone sono state prese sulla base di dati antiscientifici cioè non supportati dalla scienza lo abbiamo visto il vaccino ti protegge il vaccino non ti fa morire il vaccino non propaga il virus cioè il Green Pass è la garanzia di trovarsi tra persone non contagiose e non contagiate quindi tra persone sane e per la stessa missione della Pfizer noi sappiamo che non è così perché loro stessi hanno detto pubblicamente in una interrogazione parlamentare al Parlamento europeo che loro non hanno mai fatto alcuno studio per dimostrare cioè finalizzato a dimostrare che il vaccino o comunque la capacità del vaccino di limitare i contagi non ci sono proprio studi su questa cosa quindi sono state prese delle misure diciamo non supportate dalla scienza però questo discorso e fino a qui mi trova mi trova concorde poi però c'è una riflessione da fare qual è l'aspetto sottinteso che c'è in questo discorso cioè il dire sono state prese delle misure non supportate da evidenze scientifiche è vero certo ma tu lo sai dopo e qui cade l'asino cioè tu lo sai dopo che non ci sono supporti scientifici alla base di quei provvedimenti non lo sai prima perché il governo che c'era prima ti diceva lo dice la scienza quindi quello che sta dicendo la Meloni e questo pone una riflessione secondo me molto forte sulla quale bisognerebbe aprire un dibattito serio è dire in maniera sottintesa perché lei ovviamente questo non lo ha detto però lo deduco io a livello implicito se un domani ci fossero delle basi scientifiche che supportano determinate determinati provvedimenti allora noi potremmo prenderli perché siamo supportati dalla scienza però questo è lo stesso discorso che faceva il governo prima che ci diceva che c'erano i dati scientifici e invece non c'erano cioè chi dice cos'è la scienza a quello che ci sfugge oggi ed è questa la riflessione più importante più importante è che la scienza non è la verità la scienza non è la verità la scienza è un metodo che prevede determinati procedimenti per comprendere il mondo ma questi procedimenti e questo metodo giungono a delle conclusioni che un domani possono essere smentite dalla stessa scienza attraverso quello stesso metodo perché attraverso dei nuovi parametri delle nuove tecnologie delle nuove conoscenze magari si apprende che sono stati presi in esame determinati elementi e non faccio esempio tre elementi e non un quarto perché questo quarto elemento è stato scoperto negli anni successivi e quindi sulla base di quei soliti elementi quelle cose erano vere però poi negli anni abbiamo scoperto un quarto elemento che smentisce tutta la la questione precedente e questa è alla base di tutti quei farmaci che vengono immessi sul mercato come sicuri e poi dopo anni vengono ritirati perché si scopre che hanno degli effetti collaterali a lungo termine o a lunghissimo termine che non erano stati presi in considerazione perché quell'asso di tempo non c'era stato quindi gli studi evidenziamo una certa cosa quindi noi quando lei dice questa cosa non sono stati supportati dalla scienza quelle decisioni dice un'ovvietà dice una cosa vera ma non c'è nessuna decisione che possa intervenire sull'individuo sulla restrizioni di diritti individuali fondamentali e inalienabili dell'essere umano che possa essere supportata dalla scienza perché la stessa scienza è fatta di uomini e gli stessi uomini diciamo rispondono a logiche di potere io non mi posso fidare ciecamente di un governo il governo deve essere contestato sempre e comunque per questo all'interno del Parlamento viva Dio che noi abbiamo una Repubblica parlamentare c'è il dibattito tra governo e opposizione perché non c'è una verità assoluta scientifica tecnocratica tecnica che deve preparare sull'altra al centro c'è sempre l'individuo e alla fine di tutto anche la nostra Costituzione tende a tutelare l'individuo dalla collettività dalla collettività democratica che si esprima all'interno del Parlamento ci sono comunque delle cose che il Parlamento non può fare tu non mi puoi iniettare nulla all'interno del corpo perché i dati che tu oggi hai a disposizione che ti dicono che quella cosa è sicura è innocua ed è anche efficace fra 5-6 anni potrebbero dimostrarsi fallaci falsi e uno stato si deve sempre muovere all'interno di misure che devono essere reversibili per questo noi rigettiamo per esempio la pena di morte perché è una misura irreversibile negli Stati Uniti noi abbiamo assistito negli ultimi 20 anni ad almeno 232 persone uccise per errori giudiziari ma quell'errore giudiziario benché ci debba essere un risarcimento è ovvio che è irreversibile perché tu quella persona l'hai uccisa è irreversibile anche la pena che tu hai dato a uno che si è fatto 20 anni di carcere da innocente ci siamo ok ti puoi sbagliare ma in qualche modo lo Stato deve avere la misura di poter rimediare a questo errore nei confronti di quell'individuo direttamente che l'ha subita questa cosa quindi nel momento in cui tu quella persona la uccidi è ovvio che anche volendo non puoi tornare indietro sì darai un risarcimento ai familiari ma a quella persona lì tu non puoi fare più nulla quindi noi rigettiamo la pena di morte perché? perché ti puoi sbagliare e ovviamente all'errore puoi rimediare semplicemente perché non puoi fare altro non puoi non hai la macchina del tempo non sei Michael J. Fox non siamo a ritorno al futuro quindi se a uno gli hai torto 20 anni di vita non gli potrai mai restituire quei 20 anni di vita però gli potrai ridare la libertà scusandoti dicendo guarda mi sono sbagliato purtroppo non posso fare altro che risarcirti a livello economico cioè ti do un risarcimento in denaro perché non posso tornare se avessi la macchina del tempo tornerai indietro gli errori fanno parte dell'essere umano per questo le decisioni ripeto devono essere sempre reversibili quindi nel momento in cui tu mi inietti una sostanza all'interno del corpo il danno che quella sostanza mi va a provocare potrebbe rivelarsi un futuro un danno irreversibile l'abbiamo visto con diverse persone che purtroppo sono decedute a causa del vaccino sono pochi sì ma vuoi mettere tre morti su 50 miliardi dei dosi somministrate ma che vuol dire ma quella persona l'hai ammazzata cioè non vuol dire niente questa cosa l'individuo è sacro quindi la scienza il compito della scienza e della tecnica è quella di consigliare è quella di dire guardate noi le cose stanno così cioè i dati ci dicono questo noi vi consigliamo di farlo poi a voi la scelta ma non si può obbligare le persone a prendere assumere dei farmaci a iniettarsi delle sostanze perché lo dice la scienza perché la scienza a volte dice un sacco di stronzate e questo è perché è importante questo libro qua perché Richard Carson scrive questo libro che tutti dovrebbero leggere ma pochissimi lo leggono nel 1962 è il libro che ha dato diciamo vita a tutto il movimento ambientalista dagli anni 60 in poi e lo scrive contro il DTT cioè lei dice perché si chiama primavera silenziosa perché questa sostanza andava a distruggere qualsiasi insetto dannoso diciamo così per le culture e quindi a un certo punto lei dice non si sente più neanche il passerotto il canto dei grilli non si sente nulla nei campi quindi c'è questa primavera che è estremamente silenziosa non c'è più il canto del grillo il canto dell'usignolo il canto del pettirosso il canto degli uccelli adesso non so non ricordo bene le specie comunque endemiche degli Stati Uniti però lei parla di questi campi in primavera completamente silenziosi quasi alieni no? perché? per i danni diciamo fatti dal DTT che poi andava nei canali di scolo si mescolava nelle acque quindi creava danni anche al bestiame che beveva si abbeverava da questi da questi canali creava danni alle persone la stessa Rachel Carson è morta di tumore e lei metteva in evidenza questi dati contro tutta la scienza di quel periodo cioè tutti dicevano che quello che diceva lei era falso che i dati scientifici dicevano altro è un po' quello che viviamo noi oggi col glifosato no? che non fa male insomma non fa male non lo so noi abbiamo visto se non ricordo male l'ossido di titanio potrei dire una stupidaggine mi sembra l'ossido di titanio come conservante all'interno di alcuni alimenti che recentemente è stato ritirato dalla insomma dalla comunità europea non può essere più introdotto come conservante negli alimenti perché è un potenziale cancerogeno però per molti anni lo abbiamo assunto perché era ritenuto sicuro poi però la scienza ci ha detto che non è così sicuro ma la scienza è riuscita a dire questo a distanza di molti anni dopo che tantissime persone lo hanno assunto magari anche inconsapevolmente per tantissimo tempo ecco quindi questo libro lo dovrebbero leggere tutti quelli che credono nella scienza perché la scienza è un processo non è una verità immutabile vera e assoluta è un processo che si avvale di un metodo che addirittura pensando un po' può smentire se stesso cioè può arrivare a conclusioni che smentiscono quelle precedenti quindi vi consiglio di leggere assolutamente questo libro qui Rachel Carson Primavera Silenziosa perché è un libro che devono leggere tutti per capire realmente che cosa è la scienza e quanto sia importante il dibattito scientifico anche quando viene anzi soprattutto quando viene da voci fuori dal coro cioè quelle voci che stanno un po' ai margini isolate ah ma lo dici solo te tutti gli altri dicono che non è così e anche la storia a volte ci insegna che magari i singoli a volte hanno più ragione delle masse e detto questo farei una breve di esamino un breve discorso per chiudere perché non mi ricordo neanche più quello che vi volevo dire però questo video nasce per porre l'accento su un tema importante fondamentalmente di cui nessuno parla tutti oggi siamo concentrati sull'Ucraina la guerra di Putin che poi abbiamo scoperto che non è la guerra di Putin però la guerra di Putin contro l'Ucraina in realtà io almeno dal primo agosto che ho pubblicato degli articoli sempre sul mio blog dove parlo di quello che fondamentalmente è il problema reale il vero obiettivo degli Stati Uniti questo è un mio parere è l'Iran e si farà a modo e in maniera di convogliare lì la guerra perché lì c'è un gasdotto che è il più grande del mondo il gas naturale che è condiviso tra il Qatar e l'Iran Saipem che è la nostra azienda di Stato ha stretto recentemente un accordo con il Qatar per l'estrazione di gas da questo giacimento che è condiviso nel Golfo Persico insieme all'Iran di cui l'Iran detiene mi sembra il 38% ma l'Iran a sua volta ha sottoscritto un accordo con la Russia e dal primo agosto almeno che dico che il vero obiettivo cioè anche le scaramucce adesso che stanno succedendo tra le due Coree sono solamente dei tentativi di distogliere l'attenzione da quello che è il vero obiettivo il vero obiettivo è l'Iran perché una volta liberato il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2 e quindi gli afflussi che arrivano dal gas che arriva dalla Russia in Germania sono finiti gli Stati Uniti devono poter mettere le mani su un giacimento ovviamente che sia più vicino all'Europa perché è ovvio che loro ci portano il gas liquido però portarlo dagli Stati Uniti ha un costo altissimo quindi bisogna trovare una risorsa che sia più vicina all'Europa per limitare i costi del trasporto di questo gas e l'hanno individuata sicuramente nell'Iran perché non sono anni che vogliono andare in Iran anche perché a livello geopolitico a livello strategico gli serve per andare a contrastare proprio da sud dal settore sud-occidentale rispetto a noi ovviamente è il Medio Oriente però rispetto alla Russia è sud-occidentale e anche rispetto alla Cina e all'India è quella che è quella quella fascia di potere lì quindi loro la devono contrastare devono mettere le mani lo ripeto sull'Iran il vero problema sarà l'Iran serve quel giacimento anche perché se il Qatar ovviamente ha il 62% grosso modo di quel giacimento ma non è che può estrarre tutto il gas che vuole per rifocillare l'Europa e la Germania e tutti gli stati compresa l'Italia che vogliono consumare a più non può se hanno uno stile di vita che ci vorrebbero tre pianeti per soddisfarli se tutti gli abitanti se tutti quasi 8 miliardi del pianeta consumassero come noi è ovvio che non può estrarlo perché quel gas una parte di quel gas è anche dell'Iran e quindi il 38% quindi non è che se l'Iran ha fatto delle previsioni non so che quel giacimento durava X anni è ovvio che se tu aumenti le captazioni dalla tua parte e anche dalla mia insomma il gas scende quindi quando si decidono queste cose è un po' come fare una diga su un fiume che poi va a finire in un altro paese non è che tu puoi chiudere totalmente l'acqua il corso delle acque e lì avviene un po' la stessa cosa quindi loro devono togliere di mezzo l'Iran che è il più grande ostacolo allo sfruttamento esclusivamente europeo di quel giacimento lì e devono trovare modo e maniera di togliere di mezzo l'Iran io dico questo lo devo dire perché lo devo dire perché io è dal primo agosto che sto dicendo che il vero obiettivo è l'Iran ho scritto diversi articoli questa cosa non passa non arriva la devo far arrivare in qualche modo questo è l'unico modo che ho sono praticamente da solo a fare questo vedo che anche in tv nessuno se ne preoccupa e questo è il discorso per chiudere dico sempre che il dibattito deve rimanere sempre aperto perché le nostre decisioni i nostri percorsi di vita hanno delle conseguenze e qui ritorno sul mio romanzo dove si parla appunto della violenza quando noi veniamo condizionati dalla società subiamo questa violenza silente del condizionamento condizionamento degli amici dei parenti della famiglia della società che ci circonda dello Stato che ci crea questi valori ecco e qui torna un po' il pericle del V secolo che voleva quell'Atene portatrice di valori quell'Atene universale quell'impero atenese che si doveva divulgare in tutto il mondo dall'Egeo al Mediterraneo fino alla Sicilia alla Magna Grecia perché il valore degli Atenesi ecco poi abbiamo visto che questo modo di fare degli Atenesi li ha portati alla disfatta totale nel 404 con la perdita della guerra del Poliponneso contro Sparta quindi quello che noi al quale dobbiamo stare attenti sono i percorsi che facciamo perché i percorsi che facciamo ci portano a delle conseguenze che possono essere molto pericolose in questo testo qui in questo romanzo io vado ad analizzare quelle proprio che sono le conseguenze di determinate decisioni di determinati percorsi ogni 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 personaggio di questo libro ce n'è un altro lo sceriffo divine ha un suo vissuto ha una sua storia che lo porta a fare delle scelte per essere accettato dalla società per non mettere in discussione la propria carriera decide di chiudere un occhio benché questo gli costi una grande sofferenza sull'omicidio di una prostituta della quale lui si era invachito poi non vi dico altro e lo scoprirete nel romanzo però questo poi ha delle conseguenze sulla sua stessa esistenza le decisioni che prenderà la giornalista le decisioni che sono state prese da Johnny McKill da Baxter e da tutti gli altri personaggi che stanno all'interno di questo romanzo loro fanno un loro percorso di vita che io tengo un po' così un filo nascosto un po' velato sotto traccia per puntare il focus sulle conseguenze drammatiche che hanno le scelte che facciamo quando noi ci crediamo in maniera quasi cieca quasi dogmatica e arriviamo a non metterle più in discussione cioè questa cosa è così io mi ci butto dentro fino alla morte ma tanto non la rinnego perché questo valore questa idea non deve più essere messa in discussione e qui arriviamo al tema del nazismo ripeto la frase finale di essere portatori di valori che non potranno più essere messi in discussione noi oggi siamo pieni di questi valori che non possono essere più messi in discussione quello che dice il nostro capo dello Stato quello che dicono le autorità politiche quello che dice il governo quello che dice l'Europa quello che dice la scienza sono tutti i valori che non devono più essere messi in discussione i Novax non si devono permettere di mettere in discussione il vaccino non si deve mettere in discussione l'Europa non si deve mettere in discussione niente ecco questo il non voler mettere in discussione le tematiche importanti fondamentali che riguardano gli individui è la vera morte sociale ed è questo oggi il vero nazismo che stiamo vivendo grazie a tutti